Bentornati su Salvo. Dopo aver letto numerosissimi articoli in internet dove si parla di famosissimi imprenditori di grande rilievo che non riescono a trovare dipendenti, mi sono sentito in dovere di fare questo video per spiegare a tutti voi imprenditori che non avete capito la minchia, o meglio l'avete capita, ma la rigirate dando la colpa al reddito di cittadinanza. Perché questo? Non trovate dipendenti per il semplice motivo che voi i dipendenti non li volete pagare. Io personalmente quando lavoravo per 600 euro al mese, o anche meno, mi sentivo dire o accetti questo, 12 ore al giorno, un solo giorno libera settimana a urla, o troverò altri e ne trovo tanti che aspettano di lavorare per questo stipendio. Non c'era riddito, non c'era nulla e quindi eravamo tutti costretti a lavorare a gratis e fare tante ore. Io vengo dal mondo della ristorazione che ho abbandonato per lavorare in un ufficio scoprendo che si sta molto, molto, meglio con dei sè. Decisamente lo preferisco. È un punto di vista mio personale, ovviamente. Stiamo un attimo all'ombra che mi sto cuocendo insieme alla frutta di stagione. Stavo dicendo, il problema non è il reddito di cittadinanza, anzi benvenga, perché il reddito di cittadinanza fa sì che gli stipendi medi si sollevino. In che senso? Se tu imprenditore vuoi avere il dipendente e tiri fuori i soldi, altrimenti il dipendente sta a casa e ci può stare e non avrai più la fila di disperati che avevi prima. Non è che ci voglia molto ad arrivarci a questo concetto elementare. Quindi non è colpa del reddito di cittadinanza se tu imprenditore non trovi schiavi, no. Anche perché l'Italia è l'unico paese dove non c'è il reddito minimo. In Germania, che tu sia bianco, nero, rosso, variegato, multicolor, arcobaleno, tu prendi 10 euro a ora lordi, uguale cosa fai? Il meno pagato, perché poi ovviamente gli altri stipendi sono più alti. Questo è il motivo per cui tutti hanno il BMW quasi in Germania. E stanno bene. In Italia no. Basta che ti guardi in giro. Molte famiglie non arrivano neanche a pagarsi le bollette. Perché? Perché lo stipendio è troppo basso. E quindi chi può, chi ha la fortuna di avere il reddito di cittadinanza, io non ce l'ho. Chi ha quella fortuna dice, ah, sai cos'è? Mi vuoi dare 600 euro per lavorare 12 ore al giorno a farmi il mazzo del culo così, ammazzarmi in un ambiente di lavoro neanche sicuro. Infatti i morti aumentano. Per 600 euro? Ops, me ne sto a casa e non ne troverai gli altri. E infatti sta succedendo per fortuna questo. Chissà perché il campo più colpito è la ristorazione. Perché nella ristorazione la gente si è rotta le palle di fare 12 ore al giorno con lo spezzato, entri la mattina, se riesci, sei ultra stressato, se riesci ti riposi due ore e poi alle 5 stai rientrando fino alle 2 del mattino, ma è vita. E no, assolutamente no, le grandi catene fanno i turni da 8 ore, ma sono poche. Mai lavorare da italiani all'estero? Ve lo dico io che ho lavorato in Inghilterra, in Belgio, in Olanda, in Germania, anche da altre parti, sempre nello stesso settore. No, ti promettono uno stipendio e poi magicamente diventa la metà. Il numero delle ore raddoppia. E no, ma sai, dovresti entrare e uscire forse. E poi mai, mai che esce a quell'ora. Ricordo ancora quando era ad Auric, al ristorante Pinocchio di Giuseppe... Vabbè, adesso mi sfugge. Alle 4 del mattino, un sabato, una porzione di oliva, mi arriva la comanda, stavamo andando a casa e gli ho sbroccato. Stipendio? Meno di 600 ore al mese. Lì lavoravo anche 14 ore al giorno e dovevo stare zitto. Persì il lavoro, perché un albanese si propose per la metà del mio salario e fu preso. Avevano salvato e devi andare e avevano trovato un altro. E avevo chiesto se mi davano 50 euro di stipendio in più, perché ovviamente... Vabbè, tempi passati. Quindi volevo rispondere a tutti questi imprenditori che oggigiorno ho andato a dire che colpa di reddito di cittadinanza hanno trovato i dipendenti. Allora, mettiamo che di reddito di cittadinanza una persona prende 700 euro, ma secondo voi, se mi date 1600 euro, io rimango a casa col reddito o vengo a lavorare da voi? Ma vengo subito a lavorare da voi. A parte che nella maggior parte dei lavori chiedete 15 lauree, 20 anni di esperienza, un'età compresa tra i 18 e i 25, ma devi aver già lavorato 25 anni, aver conseguito un paio di lauree, aver avuto esperienza anche alla NASA. Io ho mandato curriculum ovunque, in tutto il mondo. Stati Uniti, in primis. Nord Europa, dappertutto, rispondendo a delle richieste di lavoro dove ci cercavano persone che parlassero italiano. Non sono mai stato chiamato, perché non ho la laurea, ovviamente. Poi una cosa che mi ha fatto ridere, e qua usciamo un attimo fuori, ma una parentesi che devo fare, in Thailandia se non è la laurea non si è autorizzata a lavorare. Cazzate, perché ho analizzato la legge locale, non serve la laurea per lavorare, ma devi avere una padronanza di un qualcosa che gli altri lì non hanno. Ad esempio la conoscenza di una lingua estera che lì non è praticata. L'italiano è un motivo valido per poter andare lì e spendersi come persona che parli l'italiano. Uguale qual è il motivo, ma ovviamente un thailandese non parla l'italiano come te. Italiano. Tornando al discorso di prima, senza fare il video troppo lungo, boga su dinai, tradotto dal sardo, tira fuori i soldi e vedrai che i dipendenti li trovi, perché la gente non ha voglia di stare a casa a fare la fame. La gente vuole dignità, dignità. Sai che cos'è la dignità? No, non lo sai cos'è, perché tu pari i dipendenti a noccioline e quindi tu non sai cos'è la dignità. Andi di essere arrestato, buttato, vabbè è meglio che non lo dico, mi chiudono il video per istigazione a non so cosa. Perché è così. E quindi quando io vedo tutti questi articoli non riesco a trovare persone che è bello, buono, lavoreci tu 15 ore al giorno, a gratis. Fallo tu. Perché a me personalmente, molti di voi mi avete detto o accetti queste condizioni o sto trovando la fila chilometrica che non vede il momento, l'opportunità di poter lavorare a queste condizioni. Adesso il mondo è cambiato, c'è ridotto di cittadinanza, quindi o tiri fuori il soldino o non trovi gente, no, non prendi al collo più nessuno. Lo fate con gli extracomunitari. Quindi o lavorate a gratis, nei campi, vedi il caporalato, lo fate con loro, li prendete per il collo o lavori a gratis o ti rimando in India, ti rimando in Bangladesh, ti rimando via. Quindi devi accettare di lavorare gratis. Perché con gli italiani c'è il reddito, non vi funziona più. Perché prima com'era? Assumo 20 braccianti del Bangladesh, poi vieni tu italiano e no, ma non ti pago di più, perché i miei braccianti mi chiedono, non mi chiedono, io do a loro 10 euro al giorno, se vuoi al limite ti do 12 euro perché sei italiano al giorno e ti paghi anche da mangiare il viaggio e tutto il resto. Ma siamo pazzi. E quindi è per questo che non c'è lavoro. Non c'è lavoro perché la gente si è rotta lì. Si è rotta, non ne può più. È detto dal cuore, è una goduria senza fine. Perché dopo tutto quello che ho passato io nel mondo del lavoro, facendomi il mazzo del culo, 14 ore al giorno, anche di più, ho fatto certe giornate 17 ore per niente nella ristorazione. Vi meritate di fallire, vi meritate le peggiori cose di questo mondo. Sì, l'ho scelto io perché è costretto, perché non c'era altro, perché non trovavo altro. Nessun ufficio mi prendeva. Poi, vabbè, in Portogallo, perché prendono cani e porci, mi hanno preso 700 euro al mese. Vabbè, è sempre meglio di lavorare nella cucina. Perché oggigiorno si trova solo in Portogallo e in Grecia 700 euro al mese. È l'unico posto dove mi hanno preso. In America no. No, because you know, you must have the butcher, blah, blah, blah. Yes, I understand, I get it. Ok, fuck you. Perché alla fine vieni portato a dire queste cose. Devi diventare impolite, altrimenti se non sei impolite non è giusto. Quindi, chiudo il video, mettete mano al portafoglio, che i dipendenti arrivano. Ciao. In saldo si dice, codesi, perché in questo caso non sono un fucking impolite, però mi ci portate a esserlo. Boga su Dinai, tirate fuori i soldi e andate a quel paese con garbo. Ciao.